Va ora in onda al culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dai pastori Claudio Pasquet e Donato Mazzarella. Benvenuti e benvenute all'ascolto cari fratelli e care sorelle. Ricordiamoci che il nostro aiuto è nel nome di Dio il quale vuole che tutti gli uomini e tutte le donne siano salvati e giungano a conoscenza della verità. Leggiamo da prima da Isaia e poi da Zaccaria questi due testi. Così parla il Signore, la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per essere rivelata. Manda grida di gioia, rallegrati figlia di Sion, perché ecco io sto per venire e abiterò in mezzo a te, dice il Signore. In quel giorno molte nazioni si uniranno al Signore e diventeranno mio popolo. Vi invito a raccoglierci in preghiera. Signore nostro Dio, Tu sei diventato essere umano per vivere tra di noi, come uno di noi, per liberarci dalla paura che abbiamo per la nostra vita, per il nostro futuro e per allargare il nostro orizzonte al di là di noi stessi. Ti benediciamo per la Tua pace, così diversa dalla nostra, che è la pace del compromesso e non della riconciliazione. Ti benediciamo per la Tua giustizia, così diversa dalla nostra, che rischia di essere sempre parziale. Ti ringraziamo per il Tuo amore generoso, così diverso dal nostro, che si rivolge solo a chi ci è amico. Il Tuo amore dona speranza agli indifferenti, scalda i cuori, apre i nostri occhi, ci fa intravedere il bagliore della gioia che illumina la nostra vita. Grazie, Signore. Amen. La Tua parola è benedetta. Grazie, Signore. Signore, signore, grazie e carità. La tua parola è verità, e padrà noi medle vangere, da chiusa sempre quidera, mi fesai, qui dai svolte freder. La tua parola è verità, e padrà noi medle vangere, da chiusa sempre quidera, mi fesai, qui dai svolte freder. Leggiamo dal Vangelo di Luca al capitolo 1, i versetti da 5 a 25. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, del turno di Abia. Sua moglie era discendente di Aronne e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti davanti a Dio e osservavano, in modo irreprensibile, tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile, ed erano tutti e due in età avanzata. Mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore, in piedi, alla destra dell'altare dei profumi. Zaccaria lo vide e fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse, non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti portorirà un figlio e gli porrà il nome, Giovanni. Tu ne avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande alcoliche e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio e andrà davanti a Lui con lo Spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo, da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. L'angelo gli rispose, io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e annunziarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava del suo indugiare nel Tempio, ma quando fu uscito non poteva parlare loro e capirono che aveva avuto una visione nel Tempio ed egli faceva loro dei segni e restava muto. Quando furono compiuti i giorni del suo servizio, egli se ne andò a casa sua. Dopo quei giorni sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per cinque mesi dicendo ecco quanto ha fatto per me il Signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini. Il Vangelo di Luca ci presenta nel primo capitolo questa figura, questo personaggio, Zaccaria, che poi è il padre di Giovanni Battista. Chi è Zaccaria? Zaccaria certamente è un uomo di una certa levatura, è un uomo importante, è un sacerdote. Qui si dice che è della classe di Abbia, quindi non è un levita. È un sacerdote che può entrare nella parte interna del Tempio, la parte più riservata. Certamente Zaccaria è un uomo realizzato perché i sacerdoti erano considerati il tramite tra Dio e il popolo. Era un uomo rispettato da tutti, però era un uomo con un grosso problema. Non ha una discendenza e desidera avere un figlio. Certamente avrà pregato per il suo progetto. Qual era il progetto di Zaccaria? Probabilmente avere un figlio che potesse continuare il suo sacerdotio, visto che il sacerdotio si trasmetteva di padre in figlio. Questo è il progetto di Zaccaria, ma evidentemente il progetto di Dio su di lui era diverso. Nel Tempio gli appare un angelo, l'angelo è il messaggero, l'annunziatore, il messaggero del Signore. E Zaccaria viene preso da timore, giustamente, la visione di questo angelo. Lui riconosce che c'è un messaggio da parte di Dio che gli sta arrivando. Ha la consapevolezza di essere dinanzi ad un evento più grande di lui. Ma l'angelo gli dice non temere, letteralmente sarebbe smettila di aver paura. È un po' quello che Gesù dirà più avanti a Pietro dopo la pesca miracolosa. Pietro aveva paura, smettila di aver paura. Perché devi smettere di aver paura? Perché Dio ha esaudito la tua preghiera. E questo vuole essere una lezione anche per noi, soprattutto quando riteniamo che sia inutile pregare. Tanto le cose andranno come devono andare. Che prego a fare? No, fratelli e sorelle in ascolto. La preghiera è importante. La preghiera è fondamentale perché, tra l'altro, è il respiro del nostro rapporto con Dio. La preghiera di Zaccaria viene esaudita. Però viene esaudita secondo i pensieri e i progetti di Dio, non secondo i pensieri e i progetti di Zaccaria. L'annuncio sconvolge il tipo di attesa di Zaccaria. Giovanni, chiamato poi il Battista, sarà un profeta, non un sacerdote. In pratica si realizza non il progetto di Zaccaria, ma il progetto di Dio. E il Signore, tramite l'angelo, fa una promessa. E noi ci domandiamo, come si è domandato Zaccaria allora, ma ci si può fidare delle promesse di Dio anche quando non ci sono le premesse. Zaccaria ed Elisabetta sono vecchi. Zaccaria non pensava di poter concepire, che la moglie potesse concepire un figlio. E allora si lascia travolgere dai dubbi, come spesso capita anche a noi. Tante volte ci sembra troppo bello per essere vero quello che Dio promette, soprattutto quando pensiamo alla vita eterna. Quante volte ci sono dei credenti, pure che si dicono credenti e sono dei credenti, ma quanti dubbi sulla vita eterna. Perché sembra troppo bello per essere vero, ma se impariamo a fidarci maggiormente del Signore, probabilmente noi potremmo riuscire a capire che Dio mantiene le sue promesse. E qui, proprio a causa di questi dubbi, Zaccaria rimane muto e questo mutismo può sembrare una punizione esagerata. C'erano già dei precedenti, insomma. Lo stesso Abramo, quando il Signore gli dice hai una discendenza, sì, ma sai, mia moglie è vecchia, è Maria stessa. Quando l'angelo gli annuncia la nascita di Gesù, dice come è possibile tutto questo. Io non ho mai avuto dei rapporti con nessun uomo perché loro se ne stanno tranquilli e sto poveraccio di Zaccaria riceve in sorta il mutismo come punizione. Ma in realtà non è tanto una punizione quanto piuttosto una conseguenza. Zaccaria è talmente sorpreso per il disegno di Dio che in quel momento viene assalito dei dubbi e non riesce a rendere grazie al Signore. Non riesce a fidarsi pienamente, a dire grazie Signore e allora come conseguenza rimane muto. Questo può succedere, fratelli e sorelle, anche a noi, può succedere alle nostre chiese. Anche le nostre chiese rischiano certe volte di rimanere mute. Rischiamo di rimanere muti quando non sappiamo riconoscere l'opera di Dio semplicemente perché questa opera è diversa dai nostri progetti. Noi avevamo immaginato un intervento di Dio in un certo modo, poi il Signore interviene in un modo diverso e certe volte noi non lo riconosciamo. Rischiamo di rimanere muti quando non sappiamo cogliere la portata dell'opera di Dio perché guardiamo in modo miope. Crediamo che il Signore non è intervenuto, non interverrà semplicemente perché ci aspettavamo un risultato immediato e forse molto più piccolo di quello che poi il Signore farà, però volevamo quello e allora non riusciamo a riconoscerlo. Nonostante ciò, sia al tempo di Zaccaria, sia oggi, la grazia di Dio va avanti. La sua opera si realizza nonostante i dubbi di Zaccaria, nonostante i nostri dubbi. Perché? Perché, fratelli e sorelle, la benedizione di Dio non è legata alle nostre disposizioni, che siamo fiduciosi o increduli. La grazia di Dio si fa strada comunque. E allora un impegno per questo tempo di avvento può essere quello di disporci a saper riconoscere l'opera di Dio, a saperla accogliere, a collaborare con essa, anche se le vie del Signore non sono le nostre vie. Ci accorgeremo col tempo che le vie del Signore sono migliori e che il Signore ha progettato il meglio per noi anche quando noi avevamo i nostri dubbi. Amen. Siamo figli d'un solo riscatto d'amore, un medesimo patto di fede, di spere, di piccola, insieme col nostro possente il Signore. vi invito a raccoglierci in preghiera. Nostro Dio, Tu sei luce del mondo e vuoi essere luce di tutti coloro che vivono nel buio. Davanti a Te pensiamo a chi ha perso il posto di lavoro o non l'ha potuto trovare, a chi si è ammalato a causa delle condizioni del lavoro, a tutti quelli che vengono allontanati quando non si ha più bisogno di loro. pensiamo a coloro che sono tenuti nell'ombra dagli altri e i cui doni non sono considerati, a coloro che non hanno fiducia nelle proprie capacità perché nessuno dà loro fiducia. Ti preghiamo poi per tutti quelli che sono ammalati, sofferenti, immigrati, deboli, a quanti vivono in paesi dove infuriano la guerra, la fame e la carestia. Signore, Tu sei il Messia, il Salvatore del mondo. Non vogliamo lasciarci accecare dalle facili promesse e dai tanti falsi Messia che ci circondano. vogliamo seguire Te, dacci il coraggio di farlo. Te lo chiediamo nel nome del Tuo Figlio che ci ha insegnato a dirti Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga al Tuo regno, la Tua volontà sia fatta in terra come è fatta nei cieli. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non esporci alla tentazione ma liberaci dal male poiché a Te appartengono il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo ricevere la benedizione del Signore. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo ora e sempre. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dai pastori Claudio Pasquet e Donato Mazzarella.